buongiornissimo stiamo andando a fare un picnic quasi più o meno è arrivato il sole è arrivato il sole c'è un bel po di neve laggiù e la bisalta la in fondo le montagne la nostra meravigliosa valle peseo ma soprattutto inizia un nuovo progetto a sorpresa da oggi inizieremo iniziamo a collaborare con un'azienda italiana faremo una sorta di raccoglitori di erbe spontanee o di prodotti della natura questa azienda ci ha mandato una serie di prodotti di cui avrebbe bisogno perché appunto l'anno in laboratorio per poi fare dei prodotti che vengono naturali e noi abbiamo appunto alcuni di questi prodotti ce l'abbiamo cioè la natura ce li regala e visto che c'è la luna crescente e siamo ancora in inizio primavera andiamo con voi a raccogliere la linfa di betulla la gemma di betulla e le gemme le bote in piemontese non so tra loro dei mertilli rossi selvatici ma vi racconteremo tutto strada facendo adesso ovviamente avete visto c'è fiocco con noi andiamo subito a prelovare la linfa di betulla ce ne serve una piccola quantità però appunto ci mettiamo all'opera così poi possiamo spedire tutte queste aziende appunto ho visto tantissimi credo magari anche tanti di voi comprano appunto questi prodotti nelle farmacie nelle erboristerie e quindi siamo gasati appunto ci mettiamo tutti i nostri amici Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche se avevamo letto che se la pianta non vuole darti giusto la linfa, non te la dà. Poi è importante fare veramente un piccolo buco ma in superficie, non andare in profondità perché sennò si patisce dopo la pianta. E alla fine tapperemo con un suo rametto la cicatrice che le abbiamo fatto, in questo modo i batteri, gli insetti non entrano dentro, lei continuerà a vivere liberamente. È tutto spontaneo, tutto naturale e come sempre sapete quanto noi amiamo la natura e c'è tanta tanta gratitudine nei suoi confronti. Guarda come è, che regalo! Grazie a tutti. 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 c'è proprio anche una scelta. Non pensavamo fossero così resinose le gemme e le foglioline piccole della betulla, adesso però noi dobbiamo andare a casa così pesiamo, vediamo quanto ce n'è e mangiamo anche un boccone magari. Devo ammettere però che con i tre aiutanti al seguito era sanatire, c'erano anche Fiocca. Adesso è normale, arriva poi va via, magari poi a casa però devo dire che loro tre ci hanno aiutati tantissimo, sono indispensabili, soprattutto Fiocca nella selezione. Grazie a tutti. 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 Finita praticamente, pensiamo, poi andremo ancora a pesare la raccolta delle gemme di betulla, adesso andiamo qua dietro, vedete quanto è verde, quanto è bello, ma cos'è? Perché siamo pieni pieni zeppi di mirtillo rosso, selvatico e proprio questa cosa veniva proprio anche ricercata da questa azienda, allora adesso ci mettiamo al lavoro sul mirtillo, il quantitativo è sempre lo stesso anche per il mirtillo e poi spediamo. Andremo poi anche pesare queste perché se siamo arrivati al lavoro sul mirtillo giusto, anche oggi tra aiutanti perfetti Fiocco, Nocciola e Epi, ma soprattutto oggi fa molto più fresco, c'è un'aria... Ma soprattutto da questo versante qua c'è un'aria freddissima, invece dall'altra parte che è il nostro versante, quello di casa nostra, è molto più caldo. E ci tocca però iniziare perché come vedete Fiocco va a ghiotto di mirtilli rossi ed è un problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono due giorni di raccolta, è veramente bello. Soprattutto perché passiamo l'intera giornata nel bosco con i nostri animali, con gli animali che sono stra felici e sono soddisfazioni. Poi metteremo tutti negli appositi contenitori e verranno tutto quanto spedito in Toscana, per cui l'idea che una parte di qui finisca in Toscana e poi in giro per l'Italia, penso anche l'Europa, è una gran figata per noi. Perché vuol dire che un pezzo di noi va, un pezzo della natura. Vengono fatti questi prodotti che noi adesso nel nostro piccolo stiamo aiutando per fare queste produzioni naturali. Siamo diventati due raccoglitori di erbe spontanee alpine. Così ci ha definito Franca. Perché si chiama Franca. Noi utilizziamo sempre il nome Franca. Noi tutto questo lo stiamo facendo per Aurum Laboratori di Pontassieve, Firenze. Ma adesso bando alle ciance andiamo avanti. Si continua. Si perché sennò affinima più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow. Tutto imballato, tutto pronto per la spedizione. Ringraziamo Sergio Slei che farà onda tramite per il ritiro del Corriere perché qui i Corrieri non vengono. Non arrivano. Siamo molto felici di questa collaborazione. Devo dire che sono stati due giorni belli pieni di raccolta. Due giorni e mezzo. Due giorni e mezzo. Sì, giusto. E stancanti perché poi arrivamo alla sera e eravamo cotti. Cotti. Però belli, ci sentivamo carichi. E poi un tutt'uno col bosco. È stato il nostro primo lavoro da raccoglitori di montagna, di erbe, di prodotti della natura. Per un'azienda appunto che è... Che si chiama Aurum Laboratori. I prodotti sono della linea Igranai. Aurum Laboratori è un'azienda di Pontassieve in provincia di Firenze. È una storia bellissima familiare di Franca e ora le sue figlie, di questa azienda agricola, Igranai appunto. E noi siamo contenti perché un pezzettino di natura della Valle Peseo andrà in Toscana per produrre dei prodotti che aiutano il benessere delle persone. Sì, e comunque vi lasciamo le indicazioni di anche, volendo se volete andare appunto a curiosare questa... I loro prodotti. Esatto. E anche dove potete trovare per acquistarli perché appunto vengono venduti in diversi punti vendita. Ma c'è tutto sul sito. Ed è una cosa bellissima, anche una storia bellissima, il fatto che ci abbiano scoperto grazie a questo canale YouTube la figlia Giulia, grazie ancora. E perché? Perché ci dà morale, ci fa capire ancora una volta che se un social network è usato con senso e con uno scopo, può veramente ampliarla, stravolgere la tua vita, stravolgere il tuo mondo e darti dell'opportunità. Esatto. Per cui questo secondo me dovrebbe essere lo scopo, l'utilizzo esatto di un social network. Wow. Noi vi diamo appuntamento. Al prossimo video. E vi ricordiamo una cosa fondamentale. Viva la montagna di centro. Ma soprattutto viva Cuneo! E adesso andiamo a studiare i mirtilli, ma questo lo vedrete nel prossimo episodio. Ci saranno i mirtilli. Abbiamo preparato il terreno in un video che avete già visto e adesso però bisogna piantarli. Sono arrivati, bisogna piantarli. È previsto a 24-25 gradi, va bene. Andiamo, alla prossima puntata e iscrivetevi al canale e prenotate la struttura recettiva. Ciao!